Oggi martedì 14 gennaio 2020, panoramica del Pasubio, sotto c'è la Valarsa, noi siamo su Monte Zugna, località I Cogni, verso Passo Buole, sulle tracce del lupo, ed ecco gli rossi e finiscono a punta. Il paragone con il mio scarpone, con i ramponi e lo sterco del lupo, la panoramica del Pasubio, la zona dopo I Cogni, la Montezugna di Rovreto, sulle tracce del lupo.